Buongiorno a tutti gli amici di Volibito Programma Radio e agli amici di Radio Gela Express e di Radio Vittoria Express e noi siamo già in collegamento con Barbara Bert che è nostra ospite oggi per quanto riguarda lo spazio intervista e PG Promotion oggi lanciato dal nostro PG Promotion che ringraziamo e vado subito a darle la linea. Bene, ho aperto una diretta Facebook, nel frattempo abbiamo contattato Barbara Bert quindi siamo pronte a darle il bentrovato io ho girato un attimo le spalle, bentrovata Barbara! Buongiorno a tutti, buongiorno Molly! Mamma mia che bello quando ho chiamato con questa carica bellissima ma tu non potevi... Ah io sono sempre così Molly eh! Infatti non potevi deludere assolutamente le aspettative e sono contenta di questo. Barbara Bert è in collegamento qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express e tra l'altro un bit to cuore va a Carrara che è la tua città giusto? Sì sì, in questo momento tra l'altro sono qui a casa che tra poco ho finito la diretta e vado in studio sempre a creare, sempre a fare cose. Io sono proprio di Carrara, sì, la città del marco. Il marco è bianco, bellissimo. E sono anche con cittadina di un altro collega che è Francesco Gabbani. Esatto! E qua il sudore mi appiccica, facciamo così, che è veramente una cosa... Allora Barbara, io sono contentissima di ospitarti ma soprattutto perché tu hai toccato una tematica. partiamo dal presupposto che la musica ha l'opportunità di veicolare dei messaggi di una certa importanza e questo in particolare che è appunto Profili di Donna, che appartiene all'album Profili di Donna... Sì sì, che vogliamo dire che è uscito da pochi mesi e dico questa piccola cosa perché... Giusto! ...dato dicendo un po' tutte le radio... Giustissimo! Allora, si può acquistare l'album fisico perché abbiamo deciso di fare anche questa cosa attraverso la mia etichetta indipendente, la Didier Records di Marco della Buona Miss Pergeri col mio discografico. Sì! Quindi, appunto, si può acquistare l'album fisico andando sul mio sito ufficiale www.barbarabers.com Riceveranno a casa l'autografo nel CD con la mia dedica personale e posso dire anche quanto viene, 13 euro comprese le spese di spedizione. Perfetto, quindi insomma un costo veramente piccolo per sostenere la musica e anche per farci un bel regalo, insomma che... Naturalmente, in qualsiasi momento, in qualsiasi momento. e all'interno appunto di questo album, che ti invitano un po' se l'è ancora sentito di andarlo a sentire. Assolutamente. Perché ci sono dei brani veramente importanti con degli autori importanti. Tra l'altro ti dico che all'interno, poi andiamo a parlare del nuovo brano... No, 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 ma dacci le news, è che importante questa! Allora, ok, ok, all'interno dell'album c'è un omaggio a Gino Sant'Ercole con un brano inedito, dal titolo Non ti dirò. Quindi è una bella ficchina. Assolutamente. Ci sono tante cose molto interessanti. Ma guarda, c'è veramente... È veramente curiosito, guarda, davvero. Bene, devi andarlo assolutamente a ascoltare. Ma per favore! Assolutamente sì! Quindi ci sono tante cose molto interessanti. Un fiore tra la neve, che mi ha dato la possibilità di fare un piccolo tour in Israele a Tel Aviv, perché sono stata notata da un produttore israeliano alcol, che voleva Laura Pausini e poi ha preso me. Insomma, tante piccole spazzettature di questa ragazza poliedrica, che poi conoscerai mano a mano. Bene, bene. Ma noi infatti non ti lasciamo, non ti lasciamo andare così. Assolutamente noi quando ospitiamo seguiamo. Quindi sei serena che noi ci saremo comunque a prescindere da quello che seguiremo il tuo percorso. E io sono contenta di aver ascoltato già questo brano che stai presentando oggi. Ma se ti dico Sanremo, cosa mi dici? E ti ricordiamo, ti dico, ho partecipato a due Saremo Solle, trasmissioni del festival, che sono andate molto bene. E attendiamo, noi ci proviamo tutti gli anni, attendiamo, attendiamo di salire su quel partitico palco bellissimo. Giusto, vive la determinazione e poi davvero ogni singolo artista apporta davvero dei lavori importanti e magari anche provati sulla propria pelle. Vogliamo parlare di questo inedito di oggi? Sì, sì, quello sì, però ti voglio fare una piccola prefazione, almeno chiudiamo il discorso. Sì. Non so se voi lo sapete, io ho fatto parte per cinque anni di un gruppo molto, molto importante. Esatto. Che sono i Milk and Coffee. Esatto. Quindi voglio precisare questo che non sono un emergente, ma sono una giovane artista. Lo sappiamo perché noi abbiamo un pubblico che si documenta tanto e che ama ascoltare la musica, quindi diciamo che è un po' sottintesa la cosa, ma hai fatto bene a ricordarlo a nemici. Sì, ma perché è importante perché molte volte mi dicono, ma da dove sei saltata fuori? No, no, no. Perché ho tanti fanati su TikTok e voglio dire che è una della stessa forma anche quella, poi dopo magari diciamo i miei social dove mi possono trovare. Certamente. E quindi ti dicevo, era giusto fare questa presentazione che sono stata cinque anni con loro, ho lavorato all'estero, in Italia. Hai anticipato la domanda successiva, ma sono contenta che l'hai anticipata, tu va benissimo. No, ma sai perché, siccome sto conducendo anche una trasmissione radio televisiva su Sound Italia, una trasmissione mia assieme a un collega, che va in onda tra l'altro oggi pomeriggio, dalle 19 alle 20. Sto diventando anche un po' speaker per carità, nulla a togliere le persone che hanno studiato per fare questo, però mi piace. Ma fai benissimo, fai benissimo ed hai fatto bene anche a informare i nostri amici nascolti e chi sta seguendo la nostra pagina Facebook, anzi, sicuramente anche noi oggi faremo questo zapping per venirti a trovare e a seguire. Dai, dai, poi ti mando tutte le informazioni. Li aspetto, li aspetto, li postiamo anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito, li aspetto, quindi, veri, privatamente adesso ci scambiamo, ci diamo dei dati più precisi. Fai benissimo Molli. Bene. Allora, andiamo a parlare di profilo di donna. Vai, fammela te la domanda, vai. E la domanda è questa, quanto può cambiare una situazione, una carezza, data a momento giusto e poi facciamo un passo indietro nel tempo, perché secondo me questo è un messaggio importantissimo che porta vicino a un contesto di cui si parla poco, è un contesto abbastanza delicato e stiamo parlando del bullismo. Sì, allora, profilo di donna è un brano che riguarda me, riguarda la mia vita, quello che ho passato da piccina, dalle elementari fino alle superiori e sono stata bullizzata, ma non nella maniera fisica, perché vogliamo dire che almeno da quel motivo lì io non sono stata bullizzata in quella maniera, però a volte le parole fanno malissimo, malissimo verso un bambino, soprattutto dette da bambini, perché se si inizia alle elementari vuol dire che, insomma comunque voglio fare una cosa abbastanza leggera, voglio parlare abbastanza leggermente di questa cosa, che è un argomento importante. Lo prendiamo con le pinze, assolutamente, però tu sei una testimonianza che dal punto di vista del profilo psicologico di ogni singola persona ci sono situazioni della vita che incidono, che possono creare delle fragilità, accentuare delle fragilità per ogni individuo. Sì, sì, no, soprattutto perché i bambini sono supportati dalle famiglie, quindi non posso pensare che un bambino possa essere cattivo perché è cattivo di animo, quindi vuol dire che ha vissuto delle situazioni che non andavano bene. Allora, che messaggio porta il tuo profilo di donna? Allora, il profilo di donna porta un messaggio di speranza, quella carezza che prima o poi deve arrivare nella vita di un bambino che poi si prospetta verso la vita futura e diventa adulto, in questo caso adulta, ragazza giovane ma adulta. e quindi poi mi emoziono abbastanza a parlare di questo brano perché lo sento particolarmente, cioè li sento tutti perché i miei sono creati su di me, vestiti su di me, ma ti dico che non sono ancora autrice, sono solo interprete però dei bravissimi autori che si occupano di me e della mia crescita e posso solo dire che è il messaggio di speranza. Di speranza, quindi ascoltate il brano, è uscito da 3-4 giorni ormai, veramente poco e vogliamo dire che andando su YouTube, nella pagina della DDA Records, scrivendo semplicemente Barbara Bers, oppure Barbara Bers, profilo di donna, official music video, desidero che si gustino il videoclip. Perfetto, sicuramente lo condivideremo anche noi, come facciamo sempre sulla nostra pagina Facebook, sul sito di Radio Gela Express, noi siamo pronti ad ascoltare, per questioni anche di tempi, chiaramente dobbiamo andare avanti, ma starei ore ad ascoltarti, invece diamo voce alla musica, diamo voce a questo brano bellissimo e sicuramente verrà condiviso e apprezzato da tanti, da tantissime come dalla sottoscritta. Quindi Barbara Bers con profilo di donna, appresso sulle frequenze di Radio Gela Express e noi tra poco ci mettiamo in contatto per avere tutte le news di cui parlavamo prima. Buon ascolto e alla prossima Barbara Bers. 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 Tu la distinguerai Viettela per te La divisione sciolta e disarmata Su quel tuo corpo che cresceva troppo Ridi come sai Che bella che sei E poi vedrai, vedrai Vedrai che arriverà La certezza che toglie l'anima E troverà il tuo filo di donna Donna, 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 donna Vedrai che arriverà La certezza che cambia l'anima E troverà il tuo filo di donna Vedrai che arriverà La certezza che toglie l'anima E troverai il tuo filo di donna Fino 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 di donna segno degli artisti e della musica avrete già capito insomma che Barbara Bert non è giustamente una new entry ma bensì insomma una bella carriera alle spalle e noi gli facciamo chiaramente tanti auguri per questo brano bellissimo a domani alle 11.40 Radio Gela Express con Spazio Interviste Molly Beat